L'argomento innanzitutto era il debito di riconoscimento e il debito fuori bilancio di circa 200.000 euro per il consorzio dell'area Pescara Chiedi, un vecchio debito che risaliva una quota dal 2001 a una quota del 2013. Noi abbiamo chiesto informazioni, abbiamo chiesto di avere pareri in tal senso, sono stati pareri sommari. Oltretutto ho chiesto un approfondimento sia dell'ufficio legale ma ci sono stati pochi secondi di dibattito al riguardo poiché si è dichiarato fuori non essendo competente il legale del comune. Il dirigente di settore è venuto e ha affermato che negli anni successivi, al 2001 fino al 2017, il debito contratto nei confronti del consorzio del 2001 non era stato mai riportato nella voce di bilancio come debito fuori bilancio nei bilanci successivi al comune stesso. Oggi ci siamo ritrovati a votare un debito di circa 200.000 euro. La domanda nostra è questa, ma perché oggi devono essere i cittadini di Pescara a votare un debito contratto diversi anni fa e dove sono andati a finire quei fondi e quei soldi che servivano per pagare il debito del consorzio? Noi a questa domanda ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta, per cui il Consiglio Comunale con un voto trasversale ha votato questa delibera. Io ho chiesto ufficialmente di avere documentazione più dettagliata al riguardo di questo. Ci saranno dei professionisti del settore che mi verificheranno e studieranno dettagliatamente il tutto per poi vedere se ci sono i presupposti per poter fare un ricorso in tal senso. Anche perché dobbiamo individuare chi sono i responsabili, quello che ho sempre chiesto. Se ci sono i responsabili l'amministrazione vada su chi ha prodotto questo debito fuori bilancio.